buonasera e ben trovati al nostro appuntamento settimanale del venerdì partiamo da dove ci siamo lasciati la nostra denuncia alla procura della repubblica riguardante i titoli che non aveva la staffista del sindaco hanno portato alle sue probabili dimissioni sono voci che si rincorrono ma che purtroppo ancora non siamo riusciti ad averne certezza anche perché dei consiglieri comunali ai quali avevamo chiesto di chiedere ragione di questa situazione nessuno ci ha dato risposta né nella maggioranza ovviamente per ovvi motivi per non mettersi contro il sindaco e né da parte dell'opposizione ma poco male però voci di palazzo ci dicono che la staffista del sindaco senza la laurea ha dato le dimissioni questo perché probabilmente il signor anzi il dottor francesco deri sono laureato veramente in economia aziendale con 106 su 110 vecchio ordinamento faccio umilmente il postino dal 2006 e non utilizzo il mio titolo come farebbero altri detto questo la signora ha dato le dimissioni perché se non avesse dato le dimissioni si sarebbe ritrovata in fragranza di reato e con tutte le le conseguenze del caso perché le ipotesi di reato nel caso sono appropriazioni in debita possono essere truffa può essere falso in bilancio e scusi scusate non falso in bilancio ma falso in atti pubblici e queste però sono cose che stabilirà la magistratura e non sicuramente francesco diri e la cosa che chiaramente salutiamo l'onorevole dico la la cosa che ovviamente ci preme capire e se eventualmente il rapporto così stretto e fiduciario da parte del sindaco se eventualmente il signor sindaco non fosse a conoscenza del mancato titolo della staffista se eventualmente e questo lo stabilirà sempre la magistratura non ci sia una complicità da parte del sindaco e anche questo sempre andrà verificato perché se questa persona è stata nominata su fiducia del sindaco per una sua conoscenza personale per una sua scelta sicuramente la conosce così bene da sapere se questa signora è o non è laureata fatto sta che costata alla collettività tarantina 51 mila euro per i prossimi tre anni 51 mila euro all'anno che sono andati nel bilancio di previsione di cui adesso parleremo mi sono recato ieri al consiglio comunale a mie spese mi sono preso un giorno di ferie dal lavoro perché volevo guardare negli occhi il nostro sindaco così ho fatto mi sono messo in ferie non sono andato a lavorare e sono andato a guardarmi a godermi il consiglio il consiglio comunale perché era uno spettacolo il consiglio comunale di ieri arrivo sotto palazzo di città entrano alcuni esponenti politici anche non consiglieri comunali francesco deri nonostante sia abbastanza conosciuto diciamo più o meno da qualcuno sanno da vent'anni che faccio politica è anche dentro palazzo di città mi conoscono diverse persone francesco deri viene bloccato alla porta dell'ingresso di palazzo di città gli viene richiesto il documento d'identità rilascia la patente e mi hanno lasciato per tre quarti d'ora fuori alla porta non facendomi entrare in consiglio comunale fino a quando non suonava la campanella ma con questi signori poi ce la vedremo questa situazione perché anche qui ritengo che sia stato fatto un abuso visto che mi hanno chiesto 45 minuti prima il documento riesco a salire sopra al consiglio comunale l'aula era già piena per fortuna dei cittadini ci hanno lasciato un posto in prima fila in maniera tale che potessimo guardare bene negli occhi il nostro sindaco e ci siamo goduti lo spettacolo il sindaco e vi pubblicherò perché abbiamo preso attraverso magnetofono che è un programma che trasmette in diretta il consiglio comunale abbiamo tagliato il pezzo dell'arringa che ha fatto il nostro sindaco melucci e ve la pubblicheremo subito dopo questa diretta il sindaco melucci ha fatto un'arringa offensiva e poco rispettosa degli organi istituzionali previsti dal testo unico sugli enti locali nel senso che ha parlato contro i revisori dei conti che hanno l'obbligo e sono incaricati dal ministero dal governo di controllare i conti degli enti pubblici come appunto stabilito dalla legge e i revisori dei conti guardando il bilancio del comune di taranto lo hanno assolutamente bocciato con una relazione di 40 pagine non una o due pagine una relazione ben dettagliata che ovviamente vi pubblicherò e probabilmente il sindaco siccome siamo stati i primi a pubblicare la relazione dei revisori dei conti ci ha tenuto anche a sottolineare di come si sia rimasto infastidito che dei cittadini comuni come francesco deri siano stati arrivati ad essere in possesso della relazione dei revisori dei conti prima della stampa amica sua e prima di alcuni consiglieri comunali e lo ha riferito durante la durante il suo intervento e lo sentirete se l'è presa con la signora De Gennaro con la consigliera De Gennaro che a tutt'oggi mi pare che faccia comunque parte della maggioranza anche se forse al sindaco non gli piace e ha fatto una ringa molto offensiva appunto come vi dicevo nei confronti dei revisori dei conti che è una cosa assolutamente eh molto grave il problema serio è che il sindaco Melucci laureando in scienze politiche a 42 anni ancora laureando in scienze politiche probabilmente non conosce o essendo vissuto nella bambagia nella sua famiglia nel protetto dall'affetto familiare del papà che gli ha lasciato le aziende nelle quali lavora probabilmente non conosce quelle che sono le leggi quelle che sono le regole e quello che è il normale vivere eh di una società civile i revisori dei conti sindaco Raiss Raiss Melucci non sono a sua disposizione non sono suoi dipendenti non devono fare quello che lei dice ma seguono le norme le leggi seguono quelle che sono le regole dello stato italiano non siamo in Iraq ancora ti pensi che sei Saddam Hussein e quindi gli ha attaccati pesantemente e tra l'altro pretendevano con una certa con un certo fare molto arrogante che i revisori dei conti dovessero essere presenti in consiglio comunale cosa che assolutamente non è dovuta sono stati invitati poi c'è stato un non capirsi probabilmente con il presidente del consiglio comunale fatto sta che avevano malcapito i revisori dei conti e non si sono presentati al consiglio comunale alle nuve senza esserne tenuti perché i revisori dei conti non sono tenuti a venire in consiglio comunale sindaco e quindi ovviamente in ritardo dopo che poi vi spiego questo passoaggio qua andiamo al fatto del consiglio comunale presi dalla strizza i due consiglieri di maggioranza vale a dire dante capriulo e la signora de gennaro hanno chiesto di rinviare il punto del bilancio perché hanno chiesto di rinviare il punto del bilancio perché se avessero approvato il bilancio e ne avevano i numeri per approvarlo avrebbero rischiato col proprio sedere con la propria responsabilità civile penale di quello che approvavano e quindi mossi dalla strizza hanno chiesto un rinvio per poter approfondire meglio quello che invece la commissione bilancio aveva approvato bilancio la cui delega e nelle 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 facoltà del sindaco cioè il sindaco si è tenuto a sé la delega al bilancio non ha messo un assessore esterno perché lui doveva controllare lo scienziato scienziato politico che ancora non sta laureato 42 anni alla terza etata c'è laureato e quindi chiedevano il rinvio a questo punto che è successo che ovviamente l'opposizione è andato in fermento perché ovviamente dicevano voi ci avete i numeri per poter approvare il bilancio perché dobbiamo rinviare il bilancio prendetevi le vostre responsabilità approvate il bilancio votatelo e poi vediamo che cosa succede bagar l'opposizione abbandona l'aula per protesta perché purtroppo essendoci numeri hanno votato la eh il rinvio del punto sul bilancio a maggioranza è passato il rinvio e quindi hanno rinviato a data da destinarsi il punto riguardante l'approvazione del bilancio di previsione che cosa succede poi arrivano i revisori dei conti in ritardo al consiglio comunale dopo che sono stati avvisati di questa situazione e delle parole pesanti e gravi che il sindaco melucci ha utilizzato nei confronti di istituzioni perché i revisori dei conti pubblici che fanno parte di un albo professionale rappresentano un'istituzione e che un sindaco si permetta il lusso di parlare in quel modo di autorità istituzionali è una cosa scandalosa tant'è vero che i revisori dei conti che sono tre il presidente e due componenti hanno chiesto al consiglio comunale al presidente del consiglio di avere la registrazione del consiglio comunale perché volevano esattamente ascoltare le parole del raiz credo che le abbiano avuto la registrazione qualora non dovessero averla avuta provvederò io a fare della via ai revisori dei conti le parole gravi che sono state utilizzate nei loro confronti di persone che hanno studiato si sono presi una laurea tranne uno che ragioniere uno dei tre è un ragioniere hanno studiato si sono presi una laurea hanno buttato il sangue sui libri e in più hanno fatto tre anni di tirocinio per poter e fare accesso all'albo dei revisori dei conti si fa anche un piccolo esame per poter avere accesso per poter essere inseriti nell'albo dei revisori dei conti caro signor melucci mica come la sua staffista che si autolaurea e dobbiamo sopportare queste cose l'offesa a dei professionisti a delle istituzioni da parte del sindaco che probabilmente a mio parire probabilmente non forse non è così però secondo me non sta più ragionando il nostro sindaco è andato fuori proprio dai lumi della ragione secondo me ha bisogno di sfogarsi di parlare con qualcuno di aprirsi di spiegare quali sono le sue problematiche tanto è vero che durante l'intervento ha detto che non ce la fa più che vuole dare le dimissioni non vi dico come mi sono disperato quando ha detto così mi sono preoccupato ho detto no melucci non lo fare non ti dimettere per piacere dopo di che finisce il consiglio comunale si chiude il tutto e stamattina uno dei revisori dei conti si è recato in commissione bilancio a spiegare quelle che sono le loro perplessità che avevano già messo per iscritto però ovviamente i consiglieri comunali non è che sono persone dei tecnici amministrativi o che possono o che devono necessariamente avere delle competenze di bilancio quindi siccome si tratta di votare un bilancio di previsione e ci sta il rischio penale e civile da parte dei consiglieri comunali che lo approveranno hanno voluto chiedere dei lumi però a quanto ci consta non ne sono venuti fuori bene da questi chiarimenti e non sono riusciti a venirne a capo ora una riflessione la voglio fare il sindaco melucci si sta comportando molto male nei confronti della città lui crede di poter fare tutto quello che vuole andando secondo la sua mentalità e fare fa tutto quello che più gli è comodo e pensando di essere diventato il proprietario della città di taranto la città di taranto è composta dai tarantini e composta dai cittadini che non possono essere maltrattati in questo modo le persone che sono state elette in consiglio comunale e che rappresentano una parte dei cittadini non possono essere maltrattati come le sta maltrattando lì e mi riferisco per esempio l'ex procuratore sebastio l'ex procuratore capo della repubblica di taranto il dottor franco sebastio si è misurato in una competizione elettorale è stato eletto era candidato sindaco da persona eccezionale quale è ha doveva essere candidato alla presidenza del consiglio comunale ha rinunciato alla presidenza del consiglio comunale fidandosi della parola del sindaco e ha accettato un assessorato alla legalità è stato rimosso da assessore quindi ha perso il posto da assessore e ha perso anche il posto da consigliere comunale nel silenzio di tutti e mi domando come sia possibile che l'assessore alla legalità del procuratore sebastio da due mesi è stato sollevato dall'incarico e quel posto non è stato preso da nessuno non vorrei che magari il dottor sebastio con la sua funzione di assessore alla legalità stesse aprendo qualche cofanetto perché stava sentendo la puzza di qualche cosa che non andava bene mi auguro che non sia così sindaco anche perché io le volevo dire anche questa cosa il dottor sebastio è così una brava persona è così una persona che va stimata e apprezzata dalla città di taranto che sapendo tutto quello che stava succedendo sapendo come mi sto muovendo nei confronti del dell'interesse della città si è offerto si è offerto gratuitamente di rappresentarmi legalmente quindi dottor sebastio sarà il mio legale sia per questioni che mi dovessero arrivare speriamo sia perché le questioni che invece ho tirato fuori io quindi dottor sebastio lo avete fatto fuori forse per evitare che potesse vedere qualcosa dopodiché avete avuto questo comportamento nei confronti dei revisori dei conti anche loro sono un'istituzione e ancora una volta mi è giunta voce da palazzo di città da radio città palazzo di città che avete convocato nella settimana scorsa un dipendente comunale che era applicato presso un altro servizio lo avete convocato nella vostra stanza sindaco e lo avete minacciato alla presenza del direttore generale che lei ieri tanto decantava il suo compaesano di crispiano durante la sua ringa al consiglio comunale lo avete minacciato sindaco e se sto dicendo il falso mi vado a querelare che poi le porto io le carte e le prove che invece come le sto dicendo io quello è un reato si chiama bossing sindaco ancora vi pensate che state in una delle vostre aziende del porto quello è il consiglio comunale voi siete il sindaco dovete rappresentare i cittadini e quel signore e sapete di chi sto parlando è un dipendente comunale non è un suo dipendente tu sei così sia amico di francesco deri passi le carte ma come si permette sindaco io sono laureato in economia aziendale non c'ho mica bisogno che un suo dipendente mi passi le carte che le so andare a prendere benissimo tanto è vero che il dipendente purtroppo stressato e maltrattato da lei alla presenza del direttore generale si è dovuto mettere in malattia sta in malattia io l'ho sentito telefonicamente è molto abbattuto l'ho visto veramente molto male non so come a finire questa storia sindaco non lo so proprio e quindi questo è un reato è la procura della repubblica che sta ascoltando quello che sta dicendo francesco diri mi auguro possa intervenire e magari chiedermi informazioni di chi è questo dipendente del comune ma un dipendente comunale che cosa gli è è stato detto eh sindaco vi volevo dire un'altra cosa nei processi di lavoro per chi non lo sapesse è prevista la registrazione delle conversazioni se il datore di lavoro o chi lo rappresenta si comporta in modo scorretto gli apre le vecchie sindaco è il consiglio che ti voglio dare da fratello maggiore che ci passiamo un anno prendi le valigie e tornatene a casa torna a casa vai a fare il mestiere di papà vai a fare il mestiere al porto lascia stare la cosa pubblica lascia stare l'amministrazione comunale non è cosa tua anche perché io ho aiutato a prendertela la sedia io sarò quello che te la toglierà e te lo prometto per cui caro sindaco dai le dimissioni ritirati in buon ordine prima che sia troppo tardi e che magari potresti fare cattive figure potresti fare delle bruttissime figure perché quello che stai combinando è molto 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 grave per molto meno altri sindaci sono hanno ricevuto cose non belle con questa vi saluto è stata una diretta un po pesante però era necessario informarvi di quello che sta succedendo siamo messi veramente molto male molto 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 male si ritiri sindaco ascolti un consiglio si ritiri alla sua vita privata buona serata buona domenica e arrivederci